Perché siete qui oggi? Per protestare contro questa sentenza assurda, perché le motivazioni sono veramente blande. È una decisione politica quella della Corte e proprio per questo per far valere le ragioni dei cittadini e soprattutto le ragioni della legge contro una decisione politica, una cosa che noi non tolleriamo. Usiamo i nostri mezzi che abbiamo a disposizione perché adesso anche nelle aule deputate come è l'aula del Senato o l'aula della Camera non ci ascoltano, utilizziamo la piazza per farci sentire perché i nostri cittadini ne hanno tutto il sacrosanto diritto.